Volevo invitarvi insieme al mio collega Giacomo Pezzo a questa masterclass gratuita chiamata Introduzione alla Neurobiologia e Unità Miofasciale, i principi necessari per mantenere il corpo sano e flessibile. I contenuti a trattare sono le storie del meccanicismo nell'allenamento e la riabilitazione, i sistemi biologici integrati nell'allenamento e la riabilitazione, il concetto di allostasi e autopoiesi biologica. In questa masterclass inoltre tratteremo le tematiche riguardo la concezione del corpo umano derivanti dalle filosofie orientali e dalle arti naziali, che noi riteniamo avere delle strette connessioni con la nostra metodologia di ricerca ma soprattutto con la nostra proposta di rilascio della fasciata. Grazie a tutti!